Siamo nel post partita di Barretta Gravina, terminato 3-0 con Ruggero Di Gaeta. Questa gioca avete fatto un'ottima partita dopo quattro pareggi consecutivi. Eravate quello che vi aspettavate, soprattutto per come siete arrivati a questa partita. Sì, l'abbiamo preparata bene, il mister l'ha preparata come tutte le altre partite. Nonostante gli ultimi quattro pareggi, ci siamo giocati una partita secca, ce l'abbiamo fatta avvengere, ora ci giochiamo tutto per tutto con il bitonto in finale. L'obiettivo è grave bene, è quello di vincere, la prepariamo come tutte le altre partite. Ecco, abbiamo visto anche che tu hai giocato tutta la partita a questo oggi. Come ti senti fisicamente? Soprattutto ti stai trovando bene con questi compagni? Siete un bel gruppo e soprattutto state facendo una bella stagione. Sì, siamo un bel gruppo. Io e i compagni sono rientrato in questo gruppo a gennaio a causa dell'infortunio, quindi ho salto tutta la preparazione atletica. Però con i compagni ho installato un buon rapporto, anche perché la maggior parte già la conoscevo. Fisicamente, diciamo, secondo me c'è ancora tanto da lavorare, perché non ho ancora i 90 minuti nella gambe. Però ce la farò, sto tornando. Ovviamente vi facciamo un grande in bocca al lupo, soprattutto per la vittoria di questo oggi, soprattutto per la finale che poi vi aspetta settimana prossima contro il bitonto. Ringraziamo Ruggero Di Gaeta per questa intervista. Grazie a voi.